Bella a tutti raga e benvenuti in questo nuovo video Io sono Maullo941 e oggi per il video delle 11 Intanto buongiorno a tutti quanti e buon martedì Per il video delle 11, signori miei, siamo su Slitherio Slitherio.slither.io Non so come cazzo si pronuncia Comunque siamo sul giochino in cui siamo quel verme Che dobbiamo far mangiare le palline E dobbiamo evitare di essere mangiati dagli altri Allora, signori miei, mettiamo il nostro posto Nick Maullo941 E partiamo, signori miei Allora, io una volta questo giochino ce l'avevo Per telefonino Ci giocavo sul telefonino Oh, guarda che siamo carini Guarda che siamo carini, il vermetto piccolino Oh, là c'è il vermetto della pace Va bene, riesciamo a mangiare qualche pallina Leggermente ringretinito Guarda, guarda queste, 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 queste Oh, sono tutti piccolini, che cosa carina Oh, non ci sono i mostri I mostri quelli enormi, ancora non ci sono Ok, dai, mangiamo, mangiamo, mangiamo palline Mangiamo palline, dai, 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 mangiamo palline Mangiamo palline, riusciamo a ammazzarne qualcuno? No Lasciamo perdere, lasciamo perdere Mangialo, mangialo, ma grande Mamma mia Bella così Abbiamo fatto fuori il primo, raga Uno l'abbiamo fatto fuori Bella così Non ho un ricordo mio vero e proprio di questo giochino Siamo lunghi 99 102 centimetri In basso, a sinistra Spuntano i centimetri Che siamo lunghi, raga Spuntano i centimetri Che siamo lunghi No Volevo fregare il giallo Ma ha fregato lui Ok, ok Abbiamo finito 113 Ok, ricordiamoci 113 Aspettate me lo scrivo 113 Il nostro record in questo momento è 113 Voi ci avete mai giocato a Slitherio, raga? Ci avete mai giocato a Slitherio? E' un gioco che andava molto in voga un paio di anni fa Un paio di anni fa Ma io sul canale porto di tutto e di più, signori miei Quindi porto giochi vecchi, porto giochi nuovi Porto quello che mi pare, praticamente Allora Dai, dobbiamo riuscire a fare più di 113 Mamma mia che grosso questo Andiamo vicino Stiamo vicino a questo qua enorme In teoria si dice che se uno sta vicino a questi grossi Prima o poi quelli grossi muoiono A meno che non ti chiudono dentro Ma io dico Sono piccolino Sono piccolino E sono scemo pure Sono piccolino E sono scemo 45 Vabbè, questa partita non è mai esistita, raga Questa partita è mai esistita Allora Il problema è che non mi risponde subito Alla girata di freccia che gli do Forse dovrei abbassare un attimino la qualità Forse riuscirei a avere più Più E che no, vabbè La cosa è che è mattina, raga Sto registrando questo video alle 8 del mattino Quindi diciamo che anche questo vermetto È leggermente ancora assonnato Quindi non riesce Perfettamente a seguire gli impulsi Che gli do io col mouse Quindi diciamo che Allora, il nostro regolo è 113, raga Siamo a 55 cm di lunghezza Ovviamente non so se sono 55 cm di lunghezza Riesce a seguire la freccetta Mamma mia che brutto quello Mamma mia che brutto quello No, quelle non le voglio Però non andiamo all'esterno, raga Io voglio stare dove c'è Dove c'è la caciara Ai, ai, ai Quello è stato chiuso male Quello è stato chiuso male Evitiamo Evitiamo cose strane Cortesemente Grazie Siamo lunghi 81 cm 81 cm Secondo me il viola muore Secondo me il viola è molto furbo È molto furbo Quindi stiamo lontani dal viola Sì, 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 sì Ne abbiamo mai ammazzato un altro, raga Ne abbiamo ucciso un altro Dai, e piglia ste palline Prima che qualcuno ci viene a ammazzare male Piglia, piglia Oh, perfetto Siamo lunghi 134, raga 134 Nuovo record, nuovo record Abbiamo ammazzato quello Senza manco che ho fatto niente Mi sa che è combinato peggio di me Con la reattività del verme Mamma mia No, no, evitalo Bra, è lo così 165 Dai, ci arriviamo a 200 A 200 A 200 di lunghezza Dai, 200 già sarebbe tantissima roba, signori Se dovessimo arrivare a 200 Sarebbe già tantissima roba 183 Dai, 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 dai Occhio No, 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 no Siamo fatti ammazzato Non ci posso credere 190 Nuovo record 190, scriviamo 190 Allora, 190 190, ragazzi Se questo video arriva a 12.000 12 mi piace Oh, guardate, siamo piccolini e gialli A 12 mi piace Io porto un altro episodio In cui cercheremo ancora di battere il record Voi, dicevo Ci avete mai giocato a questo gioco? Che poi ne hanno fatti una caterva di questo Hanno fatto Soleteria Hanno fatto Agarria Agarria potremmo pure portarlo Ne hanno fatti un macer Ce n'era pure uno Che ho portato solo sul canale Che era simile a Fortnite Fatto pure in punto IO Che non so però Cosa fosse Che non so Che era una cosa terribile Era una specie di Fortnite in 2D Questa è una costellazione Praticamente Sì, perfetto Mangiamo questa costellazione Mamma mia Quello come è morto male Me la fai mangiare un poco Me la fai mangiare un poco No, se l'è chiuso tutto Se l'è chiuso tutto No, no, no Se l'è chiuso tutto Se l'è chiuso tutto Se l'è chiuso tutto Andiamo Allontaniamoci Allontaniamoci Perché è pericoloso È pericoloso È pericoloso È pericoloso Io volevo ammazzare il viola E il giallo Ha fregato a tutti Questa partita Non esiste nemmeno Questa partita Non la state vedendo Nemmeno Nemmeno questa volta Dai, facciamone un'altra Facciamone un'altra Dai, dai, dai Come è bello Passeggiare I pallini Tu mangiare No, no, no Perché sento che il giallo Stava a chiudere tutti Ecco, lo sapevo io Lo sapevo io Il problema è che Se uno accelera Bello quello Come l'ha ammazzato Se hai già mangiato Tutti i pallini Sì, se hai già mangiato Tutti i pallini Mamma mia Mi è schizzato quello Stiamoci lontano Perché mi sta facendo Mal di testa Allora Se uno utilizza L'acceleratore Che poi si utilizza Col tasto destro Del mouse Col tasto destro Del mouse Perde lunghezza Del verme Praticamente Perde lunghezza Del verme Quindi se Riusciamo ad essere Belli lunghi Poi utilizzando Il turbo Che ci può salvare Le natiche In alcune situazioni In alcune situazioni Diciamo che In altre Ci fa perdere Di lunghezza Il nostro obiettivo È raggiungere Di 200 Di lunghezza Mamma mia Che sono messi male Che siamo messi male Perché sono morto Mi è laggato tutto Dai Non è giusto Allora Aspettate Abbassiamo Abbassiamo la grafica Dai Questo è che Riusciamo ad essere Più 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 performanti Più performanti Questo è stato Terribile Sono morto senza Che ho capito il motivo Sono morto senza Che ho capito il motivo Ok riusciamo a essere Un po' più performanti Forse sì E che eravamo finiti In un punto In cui c'era Troppa caciara Praticamente In un punto In cui c'era Troppa caciara Questi si ammazzano Secondo voi Fra di voi Secondo voi Ammazzatevi Fra di voi Porca di quella Ma veramente Ma perché Questo Ma perché Sta facendo così Sto gioco Mi sta facendo Attaccare nervi Ma ero io In vantaggio Perché mi ha Mi ha Mangiato lui Perché mi ha Mangiato lui Ero io In vantaggio Una partita giusta Il nostro record È 190 Raga Dobbiamo arrivare A 200 Non chiudo La partita Se non arriviamo A 200 Dai dai Col vermino Rosso Mi sento fortunato Il rosso Porta bene Il rosso Porta bene Raga Il rosso Porta bene Il rosso Porta bene Mangiamo tutto Mangiamo tutto Mangiamo tutto Il fatto è che io Sto proprio al centro Della mappa Capite Proprio dove c'è Dove c'è la caciara Quella più Più potente Stessi Bello laterale Dove A farmi Gli affari miei Forse a 200 Ci arriverei anche Molto velocemente Però se sto al centro Della mappa Diciamo che Il centro della mappa È la zona più Caciarosa No 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 Sì 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 Te mangi questo Bello così Te mangi questo Quelli si stanno Ammazzando tra di loro Per i vari punti Ma noi li lasciamo Perle Siamo a 160 Raga Il rosso è morto Il rosso è morto Il rosso è morto Il rosso è morto E quello Sta mangiando tutto Me ne dai un pochino Me ne dai un pochino No 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 Me ne dai un pochino No 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 Questa è bastardata Questa è bastardata Ci ha chiuso dentro Record 246 Raga 246 Segniamo il nuovo record 246 Per poco Siamo arrivati a 250 Raga Dai arriviamo a 250 Ce la famo arrivare a 250 Ce la dobbiamo Far arrivare a 250 Raga 250 250 Mannaggia Peccato Ci siamo fatti Ingollosire troppo Da quei pallini Praticamente messi Da quelli che si erano Suicidati Praticamente vicino a noi Ci siamo fatti Ingollosire troppo Da quelli Perché se ci facevamo Gli affari nostri A quest'ora 250 Ci eravamo anche arrivati Dai ecossi Dai ecossi Prendi questo Che è bello ciccioso Prendi questo E' bello ciccioso Mamma mia È bello ciccioso questo Riusciamo a farci però I fatti nostri Dai 62 62 di lunghezza Ai 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 E' venuto quello Con l'antenna Quello prende Skype Praticamente Quello sta trasmettendo Su Skype Guarda Guarda come mi deve Stare vicino Guarda come mi deve Stare vicino Aiuto 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 No No Si Sei morto Male Sei morto Male Sei morto Male Siamo a 125 Guardate Quante bellissime palline Che ci sono qua Magna tutto Magna tutto Magna tutto Magna 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 Facciamoci L'affare Nostra Dobbiamo arrivare A 250 Abbiamo un record Da battere 250 250 Raga 250 Dai così Dai così Il problema è che la mia connessione È un pochetto 182 Dai 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 Via 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 Non siamo ancora abbastanza grossi Da poter chiudere le persone Perché la furbata di questo gioco È diventare abbastanza grossi E dovete iniziare a chiudere le persone Praticamente Se uno chiude le persone Praticamente Chiude gli altri verbi all'interno di sé Gli altri non hanno completamente Via di scampo Se gli altri non hanno via di scampo Tu praticamente riesci 237 Raga Siamo vicini Siamo vicini Siamo vicini Facciamoci l'affari nostri 243 248 Magna 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 No 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 Dov'è la mia 255 Raga Record Record Ci arriviamo a 300 Ci arriviamo a 300 Facendoci gli affari nostri Raga Ci arriviamo a 300 Facendoci gli affari nostri In teoria non si fa così questo gioco In teoria dovresti Magnarti gli altri 290 290 Zitti Guardate che bel filotto 300 Nuovo record Signori miei Nuovo record Cioè il primo in classifica C'ha 33.000 punti E noi stiamo a godere per 300 punti 317 Di lunghezza Oh vabbè Oh È la prima volta che ci giocavo Dopo non so quanto tempo Quindi cortesemente Andiamo vicino No 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 Questo mi sta a chiudere Questo mi sta a chiudere Questo mi sta a chiudere Bello Raga Abbiamo vinto Beh Ne abbiamo ammazzato uno bellissimo Ne abbiamo ammazzato uno bellissimo Uno bellissimo Ne abbiamo ammazzato Raga Ne abbiamo ammazzato uno bellissimo Siamo a 568 569 Perché ho come l'impressione Che questo giallo Ce lo sta per mettere Nel diretano Che ci sta a chiudere Di brutto Dai raga Dai è così Dai è così 500 Vediamo se riesco a chiudere Questo americano Questo europeo No 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 È troppo lungo È troppo lungo Non ci riesco Non ci riesco Però questo potrei riuscirlo a chiudere 599 raga Siamo morti a 599 Bastava l'ultimo Arrivavamo a 600 Non ci posso credere Allora Record signori miei Su Slitter Io 600 Scrivetemi nei commenti Raga Quanto è il vostro record Praticamente Detto questo Che dirvi ragazzo Io vi ringrazio Per aver visto questo video Se vi piace Posso portare altri video Di Slitterio Mi sono divertito Sinceramente Pertanto qualche piccola Punta di nervosismo Però va bene Il nostro record finale È 599 Mi brucia tantissimo Nel sarebbe a 600 Però va bene Va bene Miglioreremo Miglioreremo Detto questo ragazzo Io vi ringrazio Per la visione Vi auguro una buona mattinata Vi ringrazio Per i commenti E per i like Noi ci vediamo Alle due e mezza Per la prima live Sul canale Detto questo Una buona mattinata Uno buono studio E un buon tutto Quello che dovete fare Bella raga Ciao